questo video è realizzato in collaborazione con il sito di oroscopo multimediale che offre previsioni accurate e personalizzate scoprite il vostro oroscopo del giorno e molto altro ancora visitando il link in descrizione la promessa anticipazioni di martedì 13 agosto 2024 quando abel fa la sua proposta ana rimane senza parole lei ribadisce di provare sentimenti per un altro uomo ma abel insiste sostenendo che quell'uomo appartiene al passato mentre lui rappresenta il suo futuro esasperata ana gli dice che non capisce e che ha bisogno di tempo per riflettere nel frattempo pelaio confida a geronimo nel magazzino che non prova alcun sentimento perché catalina sta solo fingendo per guadagnarsi la sua fiducia come stabilito con la marchesa per poi sposarla e portarla via dalla tenuta in cambio riceverà come dote un palazzo a cadice perfetto per i loro traffici di armi imena intanto chiede a catalina seduta in salone se abbia visto manuel e catalina le risponde che manuel è partito per qualche giorno con degli amici imena si infuria dicendo che aveva bisogno di manuel per risolvere le questioni tra loro e se ne va arrabbiata rimasta sola catalina legge una lettera lasciata da manuel in cui lui confessa di non poter più sopportare imena che vede solo come una persona manipolatrice e che ha bisogno di tempo per riflettere affidandole il compito di informare il padre maria intanto spiega a valentine l'organizzazione della servitù alla tenuta ma arriva ana che rimasta sola con maria le rivela che abelle ha chiesto di sposarlo ma lei non ricambia i suoi sentimenti maria le chiede cosa abbia risposto e ana ammette di essere stata colta di sorpresa e di non aver saputo cosa dire alonso nello studio concurro è preoccupato per il nuovo allontanamento di manuel dalla tenuta curro cerca di distrarlo mostrandogli una scatola di monete trovata in biblioteca alonso gli spiega che collezionare monete rare era un suo hobby da giovane e lo ringrazia per avergli ricordato quei bei tempi cruz furiosa va da margarita e l'accusa di aver spinto manuel a partire di nuovo margarita nega ogni responsabilità spiegando che manuel probabilmente è partito perché non sopporta più i mena cruz però la minaccia apertamente intimandole di stare lontana dalla sua famiglia in cucina valentini intrattiene le cuoche e maria con storie divertenti facendole ridere a crepapelle mentre simona gli chiede di raccontare anche qualcosa su suo figlio antonito catalina e cruz discutono degli affari del negozio di marmellate quando martina visibilmente debole entra e confessa di dormire poco e di fare fatica ad alzarsi senza capire cosa non vada in lei nella sala cucito felisiano confida a salvador di aver sentito che martina esce di notte dalla tenuta preoccupato per la sua sicurezza nel frattempo nell'ufficio di romolo mauro e pia stanno organizzando i turni del personale quando arriva petra a complicare le cose sostenendo che mauro non sia all'altezza di sostituire un maggiordomo esperto pia però lo difende affermando che mauro se la sta cavando bene e ha solo bisogno del supporto dei colleghi inclusa petra ana e salvador visitano romolo felici di vederlo migliorare romolo chiede notizie sul lavoro e ana gli assicura che sebbene abbiano qualche difficoltà senza di lui se la stanno cavando ma che mauro è solo un po nervoso cruz irritata va da lorenzo e si lamenta di vedere curro girare per il palazzo senza fare nulla lorenzo le chiede cosa ci sia di male se curro si interessa alla tenuta ma cruz insiste che non le piace e vuole che se ne vada invitando lorenzo a trovare una scusa per mandarlo via in cucina mentre le cuoche pia maria e salvador parlano di romolo mauro arriva di corsa con una lettera da lope mauro la legge ad alta voce lope scrive che il ristorante dove lavora è molto rinomato frequentato da persone importanti e promette di mandare un autografo a maria se incontrerà qualcuno di famoso aggiunge che gli mancano tutti ma che è felice di essere lì poi mauro dice che continueranno a leggere la lettera quella sera e invita tutti a tornare al lavoro catalina riflettendo su una discussione avuta con pelaio riguardo alle chiavi del magazzino riceve la visita di margarita che le confida di aver sentito pelaio parlare con geronimo e di aver trovato strano il loro rapporto con geronimo che sembrava il padrone e pelaio il serbo catalina però non dà peso alla cosa ritenendo che i due abbiano solo molta confidenza a tarda sera cruz convoca mauro per criticare il pranzo e la cena ordinandogli di riferire alle cuoche che non tollererà altri errori quando mauro si allontana petra insinua che le cuoche passino tutto il giorno a chiacchierare con valentine un amico del figlio di simona che sta aiutando catalina con il business delle marmellate e cruz si lamenta di essere sempre l'ultima a sapere le cose maria trova ana nell'angar e ana esprime il suo dispiacere per ciò che sta accadendo tra manuel e imena rivelando che è stata lei a suggerire a manuel di partire maria le chiede se abbia avuto il tempo di parlare con lui della proposta di abel ma ana risponde di no promettendo di spiegare ad abel che non possono stare insieme a tarda notte curro si reca nella stanza di martina per chiederle spiegazioni sul suo comportamento rimproverandola per uscire di notte e facendo notare che suo padre ne sarebbe rimasto deluso curro sa che le uscite notturne di martina finiscono spesso all'osteria da cui esce ubriaca curro l'avverte che se qualcuno scoprisse ciò sarebbe uno scandalo che distruggerebbe la sua reputazione martina però replica che si è sicura di non farsi riconoscere ma curro le ricorda che in quel paese tutti si conoscono e qualcuno potrebbe già averla vista martina comunque insiste che bere è l'unico modo per alleviare il suo dolore e nessuno può aiutarla a superarlo nel frattempo in lavanderia ana e maria discutono di abel maria ha notato che ana lo evita e ana ammette di non sapere come comportarsi dopo la proposta ricevuta così maria le consiglia di parlarci con calma per chiarire la situazione in cucina mauro informa simona e candela che la marchesa non è soddisfatta del cibo le cuoche si lamentano della difficoltà di lavorare senza lope ma petra presente le accusa di perdere tempo a chiacchierare con valentin e ne nasce una lite che mauro cerca di calmare poco dopo lorenzo convoca curro nel suo studio e gli propone di andare a studiare al college in inghilterra come ha sempre desiderato tuttavia curro rifiuta spiegando che sta aiutando catalina e alonso con i conti e non vuole partire valentin intanto assiste alla lite in cucina e si offre di aiutare le cuoche con i lavori più semplici dopo un'iniziale riluttanza le cuoche e mauro accettano ma petra si oppone affermando che la decisione spetta alla marchesa che non vuole uomini in cucina mauro però si assume la responsabilità di tale decisione lorenzo si irrita per il rifiuto di curro di partire e ana notandolo interviene con una scusa lorenzo si allontana e curro confida ana che suo padre vuole mandarlo a studiare all'estero ma lui non vuole partire al momento ana gli dice che lui gli mancherebbe ma riconosce che sarebbe una grande opportunità anche se curro risponde che ci saranno altre occasioni nel patio valentin mostra a maria un carretto che ha costruito lui stesso per trasportare frutta e la informa che è diventato aiutante di simona e candela in cucina e maria gli raccomanda di fare attenzione martina nel frattempo va a trovare imena in camera e la trova mentre prende appunti sui monumenti italiani per organizzare una luna di miele con manuel martina rimane sorpresa e chiede se manuel ne sia il corrente e imena conferma dicendo che basterà stare soli per risolvere tutti i loro problemi lasciando martina perplessa ana si reca nella camera di romolo per portargli una tisana e trova a belli si sente a disagio ma romolo grato per le loro cure propone di regalare loro una serata a teatro abel ne è felice ma ana rifiuta dicendo che c'è troppo lavoro senza romolo alla promessa e sarebbe meglio rimandare lasciando abel deluso catalina e martina prendono una limonata insieme e catalina racconta dei suoi affari con pelaio e geronimo martina poi cambia discorso e esprime la sua preoccupazione per imena che sta organizzando la luna di miele con manuel nonostante lui non voglia più stare con lei concordano entrambe che imena ha perso il contatto con la realtà poi catalina menziona curro informando martina che lorenzo vuole mandarlo a studiare in inghilterra lasciando martina pensierosa durante il lavoro maria e salvador parlano di lope e valentin che aiuterà in cucina salvador però mostra la sua gelosia insinuando che valentin voglia più di un'amicizia con maria ma lei a tale insinuazione si irrita e se ne va cruz passando dalla sala musica vede imena strappare furiosa degli spartiti che non le piacciono più cruz cerca di calmarla ma imena la accusa di non aver mantenuto la promessa di sanare il suo matrimonio con manuel cruz cerca di spiegare che certe cose sono fuori dal suo controllo ma imena minaccia di coinvolgere i suoi genitori i duchi e rovinare il nome dei luan cruz agitata incontra martina e le racconta l'accaduto mentre martina le dice di aver visto imena organizzare la luna di miele con manuel e entrambe concordano che devono stare molto attenti ai mena nel patio felisiano confida a salvador di aver sentito curro sgridare martina per le sue uscite notturne sperando che sia riuscito a convincerla a non uscire più in quel momento petra arriva e rimasta sola con il fratello inizia a criticare il lavoro di mauro ma felisiano si allontana non volendo ascoltare cruz e pelaio si incontrano con mauro e pia per sistemare gli ultimi dettagli per l'arrivo dell'impresario inglese poco dopo arriva anche catalina e irritata per non essere stata convocata si arrabbia con pelaio e se ne va furiosa nel corridoio teresa incontra felisiano preoccupata per lui dicendogli che deve andare alla guardia civile per difendersi altrimenti potrebbero pensare che è colpevole della morte del padre felisiano è deciso a confessare ma deve trovare il coraggio nello studio catalina esprime il suo disappunto a pelaio per le decisioni prese senza consultarla gli ricorda che l'attività delle marmellate è nata da una sua idea e che ha fatto molti sacrifici per cui vuole continuare a prendere le decisioni inoltre afferma che tutto questo sta influenzando la loro relazione che propone di concludere lasciando pelaio spiazzato terminano così queste anticipazioni io sono desi e se volete vi invito a iscrivervi al mio canale per non perdervi i prossimi video un abbraccio e ci sentiamo nei commenti con i vostri pareri sulla puntata grazie 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 grazie